...i 5 Stelle. È un DEF che promette senza coperture per lo sgravio IRPEF, la disoccupazione resta un'emergenza e gli investimenti sono fortemente ridimensionati. Praticamente più che un libro di sogni sembra un catalogo degli orrori. L'esame si concluderà in settimana nelle aule di Camera e Senato con la votazione di una risoluzione parlamentare.